A livello di dati fisici sta facendo un'ottima annata, oltre che i numeri di gole, anche domenica nel momento decisivo ha dato una palla importantissima a Bernardeschi, la palla del 2-0, ha fatto una giocata straordinaria. E a livello fisico, a livello di quantità, più o meno siamo sulla stessa quantità che faceva a Madrid. A livello di intensità fa molta più intensità. È anche vero che qui la stagione è molto più lunga che a Madrid, perché l'anno scorso a Madrid hanno iniziato a giocare a dicembre, quando erano a 20 punti a Barcellona e quindi ci sono presi dopo la Supercoppa un po' di vacanza. Quest'anno lui ha iniziato subito e ora è un momento in cui sicuramente ci sarà un pochino da rifiutare, anche se la settimana più importante e più tosta è questa, perché poi dopo abbiamo a distanza una settimana, dopo Parma abbiamo Sassuolo e a distanza di 5 giorni avremo Frosinone prima di andare a Madrid. Quindi poi ci saranno due settimane dove potremo lavorare e dove ci saranno anche un po' di tempo di recupero. Ci sarà un po' la rottura di scatole di stare una settimana senza giocare, però insomma la sfrutteremo anche quella.